buongiorno da cucina biovolutiva vi ricordiamo che tutti gli ingredienti più particolari che utilizziamo nelle nostre video ricette dai superfood alle alghe dai germogli alle farine e le polveri sono reperibili nel sito di cibo crudo nelle info box troverete i dati per l'acquisto dei prodotti e ottenere un piccolo sconto o o o o o o o o Grazie per la visione! Grazie per la visione!